Oh, damn, c'è una serie di gormais 9.40, borsa fatta E ora credo proprio che me ne andrò a letto Domani mattina sveglia alle Non ne ho idea Credo alle 4 Direzione Verona E' infattibile Direzione Verona Direzione Verona Direzione Verona Direzione Verona Direzione Verona Sono le ore 5 E stai zitta Sono le 5 e 10 Sono dilaniato I test sono andati molto bene E basta Adesso abbiamo appena allenato Dei ragazzi E niente Finito la Il mio modo di vlogger Il mio modo di vlogger Il mio modo di viaggio Il mio modo di viaggio Il mio modo di viaggio Grazie a tutti.